Spaccio, danneggiamenti, vetrine spaccate, furti ripetuti e la sera di Pasqua una ragazza è stata scippata, a Terni è allarme sicurezza. Pasqua e Pasquetta, boom di turisti in Umbria, meglio Perugia che Terni mentre alle cascate è partita una nuova sperimentazione. La Ternana riparte dopo la sosta della B con una sconfitta contro la Sampdoria, per Eiro non basta e le Fere perdono 4 a 1. Benvenuti a questa nuova edizione del TG di AM Terni Television, apriamo con la cronaca, spaccio, danneggiamenti, condomini presi d'assalto e vetrine spaccate. L'esercizio Ci senti di Corso Vecchio nel giro di nemmeno una settimana ha subito tre diverse incursioni, furti anche fra Piazza Dalmazia e via Botticelli dove i latri si sono introdotti in un locale manomettendo la serranda elettronica e portandosi via il fondo cassa dell'attività. Nella notte poi tra Pasqua e Pasquetta una ragazza è stata scippata in pieno centro. Tutto questo avviene a Terni. I dettagli nel servizio. Cambiano le stagioni, non si modificano le emergenze che strangolano la città e se a Natale le attenzioni erano soprattutto per la sperimentazione riguardante la zona traffico limitato, a Pasqua è ritornato prepotentemente in primo piano il tema della sicurezza, con la situazione in centro che appare assolutamente fuori controllo. Spaccio, danni a beni pubblici, danneggiamenti ad autoveicoli, incursioni all'interno dei condomini e vetrine spaccate. Tra venerdì e sabato la terza nello stesso negozio di Corso Vecchio. L'esercizio Ci senti colpito tre volte nel giro di nemmeno una settimana. Di questi giorni anche furti fra Piazza Dalmazia e via Botticelli dove i latri si sono introdotti in un locale commerciale, manomettendo la serranda elettronica e portandosi via il fondocassa dell'attività. Ma non è tutto. Al giovane di 33 anni, aggredito pochi giorni fa da tre ragazzi per rapinarlo del portafoglio e colpito con una bottigliata in testa alla sua reazione, si è aggiunto lo scippo ai danni di una ragazza nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Scippo avvenuto in via Corona poco dopo l'una e messo segno da due ragazzi in bicicletta. In tutta questa escalation senza fine di violenza e atti criminosi, una domanda sorge spontanea, al di là dell'innegabile impegno delle forze dell'ordine. Che fine hanno fatto i vigilantesi di Bandecchi? Attendiamo risposte. Ancora un dramma in Umbria dove nella notte fra domenica e lunedì un ragazzo di appena 20 anni residente a Valfabbrica si è tolto la vita gettandosi nelle acque del fiume Tevere dal ponte nella zona di Valtiera a Ponte San Giovanni. L'allarme è scattato intorno alle 1.20 quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Perugia è giunta una richiesta di soccorso estesa anche alle forze dell'ordine al 118. Sul posto dopo l'individuazione del corpo senza vita del giovane gli operatori si sono attivati per gestire la drammatica situazione a partire dal recupero tempestivo della Salma. Un brutto incidente avvenuto in A1 con sei autovetture coinvolte ha causato rallentamenti e code lunghe fino a 10 chilometri. La situazione è tornata alla normalità solo nel pomeriggio. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi i dettagli nel servizio. Una mattinata da bollino nero per le strade della provincia ternana. Alle 11 di questa mattina circa lungo l'autostrada 1 tra Orte e Attigliano è avvenuto un incidente che ha coinvolto ben sei autovetture. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno richiesto diverse ore durante le quali il traffico è stato deviato su una sola corsia. Si è così inevitabilmente creata una lunga coda di circa 10 chilometri in direzione Firenze. I mezzi sono stati rimossi intorno alle 14 e la situazione è tornata alla normalità soltanto nel pomeriggio. Fortunatamente non ci sarebbero feriti in gravi condizioni. Un'altra tragedia è avvenuta lungo la strada statale 205 a Merina fra Baschi e Orvieto. Un uomo di 76 anni, da anni residente a Guardea, è morto a causa di un malore. La sua autovettura, riferisce la polizia locale, si era fermata in coda per un'avaria e lui era sceso quando all'improvviso è stato colto da un malore. Tutti i tentativi di reanimarlo messi in atto dai sanitari purtroppo sono stati inutili. Undici anni, lui, nove, lei. Due baby ladri sono stati scoperti per un furto in via Magno Magnini a Perugia. Nell'abitazione visitata, hanno scoperto gli agenti, si era introdotto un undicenne già con precedenti per furto, mentre a fare da palo c'era una bambina di appena nove anni. La bimba è stata fermata mentre il ragazzino è scappato verso il parco Chico Mendez dove la polizia lo ha rintracciato poco dopo. Con sé in uno zaino avevano gioielli, un orologio, un rasoio elettrico e articoli di bigiotteria, oltre a quattro cacciaviti e alcune lastre di plastica per aprire le porte. Accompagnati in questura per gli accertamenti di rito è emerso che i due minori erano gli autori anche di un altro furto in appartamento avvenuto la stessa mattina in uno stabile in via Enrico Fermi. Per questi motivi gli agenti hanno deferito entrambi all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato in concorso. L'undicenne inoltre è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Cambiamo l'argomento. Il turismo in Umbria nel weekend di Pasqua è andato molto bene ma più nella provincia di Perugia che in quella di Terni dove intanto è iniziata una nuova sperimentazione per la cascata delle marmore. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Con il weekend di Pasqua e Pasquetta è iniziata ufficialmente la stagione turistica nonostante il maltempo. L'Umbria parte con numeri da record soprattutto nella provincia di Perugia. A raccontare il trend positivo è il presidente di Federal Berghi Umbria Simone Fittuccia che ha comunicato l'occupazione quasi dell'80% delle strutture alberghiere. Tra le città prese d'assalto dai turisti ci sono Assisi e Cascia i cui alberghi sono stati occupati al 95% soprattutto per quanto riguarda il turismo delle famiglie quasi tutte italiane. A Perugia tanti turisti ma per meno giorni. E a Terni? Il tempo sicuramente non ha aiutato le tipiche scampagnate. Tuttavia alla cascata delle marmore è entrata in vigore la nuova sperimentazione che dovrebbe agevolare il turismo soprattutto per i locali. I residenti infatti dallo scorso weekend possono accedere direttamente al parco semplicemente facendo un biglietto online. Ad annunciarlo è stata l'assessore al turismo Michela Bordoni. Il giorno migliore per il turismo è stato sabato 30 marzo quando ancora il bel tempo reggeva. 4.300 biglietti staccati con lunghe code già dalle 9 del mattino. Certo ancora siamo lontani dalle promesse elettorali che erano state fatte dal gruppo di alternativa popolare. Strutture alberghiere nei dintorni, collegamenti tra cascata e il lago di Piediluco e tanto altro. Ma forse questo potrebbe essere un primo passo in quella direzione. Per ora è atteso un boom di presenze di Ternani proprio grazie al nuovo regolamento. Staremo a vedere. La Regione non sta dando al Comune di Terni i fondi pagati dai gestori degli impianti idrici. Fondi con cui di solito il Comune finanzia il Cantamaggio. Una tradizione che per quest'anno potrebbe essere a rischio. I dettagli nel servizio. La Regione non avrebbe sbloccato i fondi provenienti dai canoni pagati dai gestori di impianti idrici per lo sfruttamento delle acque pubbliche. È quanto ha detto di aver appreso con sgomento il presidente dell'ente Cantamaggio, Maurizio Castellani. La Regione quindi non ha ancora trasferito al Comune di Terni quanto gli spetterebbe in tal senso. Mancano i soldi al Comune dalla Regione. Il Comune quindi non darà nulla per finanziare gli eventi. Un effetto domino che rischia di mettere a rischio una tradizione centenaria come quella del Cantamaggio. Ancora nulla è stato fatto. Io non voglio nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di non avere nessun finanziamento pubblico per il Cantamaggio. È assurdo, commenta Castellani. E se così fosse non staremo fermi e zitti. Faremo sfilare i carri per protesta sotto Palazzo Spada. Sebbene il Comune si sia mobilitato per chiedere alla Regione di fornire i tempi di erogazione dei fondi, nel frattempo l'ente Cantamaggio paga l'affitto del capannone della sede di Via Papa Zaccaria. I preparativi procedono spediti, i magiaioli stanno lavorando i carri. Il programma è pronto nei minimi dettagli. Ma anche il pagamento dell'affitto non è cosa di poco conto dal momento che per un solo carro i costi si aggirano sui 7.000 euro. I fornitori ci sono sempre venuti incontro aspettando di essere pagati quando abbiamo avuto i fondi. È un modo per dire che al Cantamaggio sono affezionati, afferma Castellani ringraziandoli. Quei fondi però arrivavano sicuramente. Lo scorso anno l'ente ha potuto godere in tutto di 70.000 euro tra quelli stanziati dalla Regione e dal Comune. Ma quest'anno, con il rischio di non vedere un soldo, come si potrà andare avanti? Staremo a vedere. Un ternano di 54 anni è stato trovato senza vita in una stanza di un bed and breakfast in zona Gabelletta, a Terni. La tragica scoperta nel pomeriggio di sabato. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Ad aprire la porta ci ha pensato un fabbro. Intervenuti anche gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Solo in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine sulla vicenda, anche se il decesso probabilmente è avvenuto per cause naturali. Ma non è esclusa l'autopsia sulla salma dell'uomo. Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco nella prima serata di sabato presso uno studio dentistico di via Pacinotti a Terni, a causa del principio di incendio che ha interessato un dispositivo presente sul terrazzo dello studio. Il personale del 115 ha raggiunto la terrazza in questione dall'esterno, spegnendo il rogo e ripristinando le condizioni di sicurezza. Azione che ha consentito di evitare ulteriori danni e problematiche. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato. Il comune di Terni ha affidato la progettazione esecutiva per il restyling che andrà a rivoluzionare il piano terra del palazzone di via Lebrin. All'interno dello spazio arriverà anche l'ufficio della polizia locale di quartiere. Sentiamo a chi nel servizio. Arriva la polizia locale di quartiere all'interno del palazzone di via Lebrin. Lo storico immobile infatti ospiterà dopo il restyling, oltre all'ufficio degli agenti, anche quello del servizio di avviamento al lavoro, il SAL, e delle assolazioni con attività di sportello. Questo quanto prevede il progetto 4G Notte Sicura, presidio di quartiere con quadro economico da 650.000 euro. Il comune di Terni ha affidato la progettazione esecutiva alla Sidoti Engineering SRL di Albano Laziale per un esborso di poco superiore ai 57.000 euro, tempi previsti 45 giorni. Per quanto riguarda le opere, diverse sono quelle in programma. È prevista la rimozione del soppalco, la sistemazione di tutti gli impianti e la verifica per l'eventuale adeguamento strutturale. Gli interventi in questione riguarderanno uno spazio di 298 metri quadrati che si trova al piano terra dell'edificio e che per molti anni ha ospitato la sede dell'Arci ed in precedenza attività di natura commerciale. Scopo dell'intervento, che rientra nel piano periferie, è proprio quello di rigenerare l'area est della città. Il Salone Umbro dell'Agricoltura, della Zotecnica e dell'Alimentazione Agri Umbria torna dal 5 al 7 aprile prossimo con l'edizione numero 55. All'inaugurazione quest'anno sarà presente il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollo Brigida. Il Salone Umbro dell'Agricoltura, della Zotecnica e dell'Alimentazione, sempre più punto di riferimento nazionale, torna anche quest'anno con l'edizione numero 55. Ad inaugurare la chermesse che si svolgerà nei padiglioni di Umbria Fiere dal 5 al 7 di aprile 2024, ci sarà il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollo Brigida. La novità principale è la nuova area nord espositiva a disposizione da quest'anno di Umbria Fiere. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un incremento importante, come dicevo, della parte di superficie espositiva. Siamo riusciti ad organizzare circa un ettaro in più per metterlo a disposizione dei numerosi espositori. Quest'anno ce ne abbiamo oltre 500 e nonostante questo ce ne sono rimasti fuori circa 130. Questa la dice lunga sull'importanza che viene data a questa manifestazione che è tra le prime in Italia in materia di agricoltura. Questo gran numero di domande, di espositori ci consente comunque, al di là del dispiacere di dover rifiutare qualcuno, ci consente comunque di innalzare il livello degli espositori e quindi della fiera tutta, perché andiamo a scegliere ovviamente quelli che riteniamo siano più meritevoli della nostra attenzione. L'edizione 2024 ospiterà dunque oltre 450 aziende in rappresentanza di oltre 2.800 marchi. Come di consueto, grande spazio sarà dedicato alla parte zootecnica, con la fiera che si conferma polo italiano delle carni. Tra le novità anche il ristorante 100% carne italiana e un'area dimostrativa dedicata alla forestazione. Non mancheranno come da tradizione poi stand e spazi dedicati alla vita all'aria aperta, agli hobby e alle passioni legate al mondo della terra. Adesso parliamo di un problema importante che investe la città di Terni a 360 gradi, il diabete. Se ne parlerà giovedì presso la sala consigliare della provincia di Terni in una tavola rotonda organizzata dal Tribunale dei diritti del malato e da cittadinanza attiva. Ci saranno anche i sindacati che illustreranno il tanto discusso piano regionale sanitario. I dettagli nel servizio. L'appuntamento è per giovedì alle 10.30 presso la sala consigliare della provincia di Terni, organizzata da Cittadinanza Attiva e dal Tribunale dei diritti del malato, in programma una tavola rotonda sul tema il diabete in Umbria e il piano sanitario. Una tavola rotonda a cui seguirà un dibattito che parte dal fatto che la struttura di diabetologia ed alimentazione, da sempre punto di forza dell'azienda ospedaliera ternana, di fatto è stata smantellata, creando disagi agli oltre 15.000 pazienti che il servizio seguiva. Diciamo in Umbria persone che riferiscono di essere portatrici della patologia diabetica sono oltre 60.000, quindi nella nostra provincia sicuramente oltre 15.000, ma direi in realtà questo dato è sottostimato perché queste sono le persone che riferiscono di essere diabetiche e non sono realmente le persone che sono affette da diabete. Sembra una contraddizione in termini, ma molte non amano dire che sono diabetiche perché ancora c'è uno stigma che penalizza, uno stigma sia clinico che sociale, che penalizza chi è portatore di una patologia cronica. La nostra idea quindi era quella di stimolare, un'idea di stimolo e anche di cercare di capire come il piano sanitario regionale vuole porsi di fronte a questa patologia e come vuole affrontarla. Teniamo presente che il numero di anziani è notevolissimo nella nostra comunità, gli anziani sono molto più diabetici degli altri e ricordiamoci sempre che sopra i 65 anni oltre il 20% delle persone sono diabetiche, quindi una patologia da affrontare con delle strutture che siano ospedaliere o territoriali, poco importa, però che va affrontata in maniera razionale. Ma è vero dottore che dopo la sua uscita il servizio è stato chiuso, i 16.000 pazienti di cui parlava lei, a chi si rivolgono oggi? Non è proprio che è stato chiuso, diciamo c'è in corso una riorganizzazione aziendale che dipende dal piano sanitario regionale, per cui i pazienti sono un po' divisi tra ASLE e azienda ospedale, come d'altra parte è avvenuto sempre, il problema è capire queste megastrutture che andrebbero fatte, secondo l'indicazione anche ministeriale, se verranno fatte e dove verranno fatte e su questo la tavola rotonda porrà l'accento. Alla tavola rotonda, a far da moderatore ci sarà la giornalista del messaggero Vanno Golini, parteciperanno l'avvocato Daniele Giocondi, in qualità di presidente del Tribunale dei diritti del malato, il coordinatore di cittadinanza attiva Luciano Capoccia, il sindacalista Fosco Giraldi, esperto di legislazione sanitaria e l'ex primario del reparto di diabetologia dell'ospedale di Terni, Giuseppe Fatati. E questo era l'ultimo servizio, noi ci fermiamo qui, vi lasciamo ai programmi di AM Eterni Television e l'appuntamento è ai prossimi TG. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per aver guardato il video.